Si chiude la straordinaria stagione della MyEnergy Reggio Calabria. I reggini cedono il passo per la quarta volta in stagione alla Power Basket Salerno che accede di diritto e con merito in semifinale play-off a caccia di un posto in B1. 45 minuti di emozioni e colpi di scena hanno caratterizzato l'ultima dell'anno per il team del presidente Laganà. Annata importante per la Viola dal punto di vista societario grazie all'arrivo del title sponsor MyEnergy e dal punto di vista sportivo considerando che questo gruppo ha stupito, emozionato, sorvertendo i pronostici della vigilia e ricoinvolgendo il pubblico regino sempre più numeroso ed appassionato con cifre leader nella categoria. Coach Cigarini recupera Capitan Binelli ma deve fare a meno di Maveric. Primo quarto tonico dei reggini che provano a scappare con secca e grazie alle triple di Cessel. Salerno non molla e tiene botta con le triple di Basile e di Chavez. Si registra la tripa stellare da centrocampo della capitano Thomas Binelli. La trama è sempre la stessa anche nel secondo quarto. Reggini mini e lungo, Chavez e soci attaccati alla gara. Lo strappo più importante della prima parte di gara arriva a metà tempo con ancora Binelli in evidenza che chiude sul 41-35. Nel terzo quarto inizia molto meglio Salerno. Chavez è l'MVP della gara ed il condottiero dei suoi e firma pari e sorpasso. Reggio con Aguzzoli in evidenza, quattro punti in sequenza. Reagisce e riconquista un mini vantaggio, più quattro al termine del quarto. Si procede allo stesso modo anche nel quarto periodo. Maienerci con volontà di vincere, molto bene Simonetti, Cessel e Sec. E avanti grazie alle triple di Binelli. Salerno pronta a rientrare. Pesa tantissimo nell'economia della gara. Anni fortuna di una caviglia ha corso a Thomas Aguzzoli alla lunga, determinante per la vittoria ospite. Il batti e ribatti finale sembra sorridere Regini fino al tap-in decisivo di Chavez a tre secondi dal termine. Reggio non riesce a realizzare il canestro della vittoria e si vola l'overtime. Nella supplementare, una tripla di Mei ed una di Chavez indirizzano la sfida. La viola è stanca e non riuscirà a rimontare ancora. L'applauso per i locali è doveroso. La power basket Salerno però vince partita e serie, sognando la B1. Il risultato finale vede My Energy Reggio Calabria Power Basket Salerno 85-92 dopo il tempo supplementare.